I finanzieri di Senigallia hanno individuato una farmacia che rilasciava i green pass irregolari perché i tamponi rapidi antigenici venivano eseguiti senza rispettare le procedure e i tempi previsti dai protocolli, fornendo così risultati inattendibili. La pratica scorretta è stata scoperta dai militari che hanno notato uno strano afflusso di utenti nell'attività. Sono iniziate le attività di osservazione anche con riprese fotografiche, grazie alle quali è stata documentata l'irregolare esecuzione dei test, portando all'avvio di più indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona. È stato verificato che il personale impiegava soltanto una media di 3 o 4 minuti per ogni esame, fornendo anche la risposta al cliente, mentre i tempi di esecuzione previsti, che consentono una idonea reazione chimica, sarebbero dovuti essere di non meno di 15 minuti, ai quali va aggiunto il tempo necessario al prelievo. In questo modo veniva realizzato un numero di test a pagamento di molto superiore alle effettive capacità, massimizzando il numero di clienti serviti a potenziale discapito dei risultati dei tamponi che, come realizzati, non erano in grado di stabilire con certezza la negatività o meno al Covid-19, con il pericolo di lasciar circolare liberamente persone potenzialmente positive a rischio della salute dei clienti e familiari, soprattutto se anziani o soggetti vulnerabili. Tra le decine di tamponi messi sotto osservazione non è stato riscontrato nessun caso di positività. Oltre a queste condotte, gli uomini delle fiamme gialle hanno rilevato che gli esami non venivano effettuati come previsto in aree dedicate della farmacia, ma da personale che era all'aperto sulla via pubblica. Inoltre hanno riscontrato incongruenze sulla piattaforma nazionale dedicata. Infatti i prelievi del campione biologico venivano registrati indicando un orario antecedente a quello effettivo di esecuzione, così da non risultare eccessivamente a ridosso dell'orario di rilascio del certificato verde, riuscendo quindi a rispettare, almeno sulla carta, le tempistiche previste dalla normativa. I titolari della farmacia, un 32enne e un 48enne, sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica per i reati di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti, un servizio di pubblica necessità e in adempimento di contratti di pubbliche forniture, oltre che per indebita percezione di contributi a carico dello Stato. Infatti per i tamponi eseguiti ai ragazzi in un'età compresa tra i 12 e i 18 anni è previsto un prezzo ridotto di 8 euro rispetto ai 15 per le persone adulte, con il rimborso della differenza di prezzo a carico del bilancio pubblico. Il Pubblico Ministero ha emesso quindi un decreto di sequestro preventivo d'urgenza con il quale è stata interdetta l'attività di somministrazione dei tamponi e l'accesso alla piattaforma nazionale di registrazione, sequestro che è stato convalidato dal competente giudice delle indagini preliminari.